Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi parliamo della grandissima fuffa che sono i goti. Perché? Perché sono una cazzata ragazzi, sono una cazzata in bonda. Eh già ragazzi, perché i goti, non lo so, non mi danno tutto sta pillo, non è che mi fanno battere il cuore. Sapete perché? Perché siamo a metà novembre e escono le nomination, nomination che includono giochi usciti quattro minuti e mezzo fa. Ma che senso ha mettere in competizione un gioco uscito da quattro minuti, che non si sa se avrà delle modifiche nel tempo o cose simili, che non si ha il tempo di valutare effettivamente in tutte le sue sfaccettature per poi dare un giudizio a dicembre? Non ci vedo un motivo apparente, non ha veramente senso. Per fare una cosa di questo genere fatta bene, dovremmo valutare oggi i giochi dell'anno scorso. Con la chiusura dell'anno, fine, in modo che tutti i giochi che andremo a valutare abbiano avuto lo stesso corso di vita. Anche perché valutare tra i goti un Cyberpunk 2077 nel momento della release è ben diverso che valutarlo oggi. Vi rendete conto che nell'arco dello stesso anno dall'uscita ha avuto una variazione mastodontica questo gioco? Eppure questo non viene preso in considerazione. Mettiamo in competizione un gioco che è otto mesi, che ci sta strasciando l'anima in lungo e in largo, attraverso l'interregno con simpatia, con un gioco dove andiamo a bastonare gli dei norreni che è uscito l'altro ieri. Non è assolutamente logico. Non ci può essere un metro giusto di misura per valutare una cosa simile. E sì, possiamo metterci che, vabbè, ma dai, ma tanto sono i voti per i videogiochi, sì, ma dai, ma tanto... Ehi, ma è uno dei primi più importanti che c'è nel mondo videoludico. Lo vogliamo proprio assegnare a cazzo di cane? No, perché io capisco tutto, ragazzi, ma dopo aver visto le recensioni di God of War, di gente che le fa col salame sugli occhi, che non si rende conto che le luci sono sbagliate, che non si rende conto dei bug, che dice che la storia è ridondante e ad un certo punto anche noiosa eppure da dieci, mi aspetto anche che sto gioco riesca a portarsi a casa anche un goti. Così, a caso, perché tanto così tira al vento. Già che le cose nel mondo videoludico stanno andando a scatafascio, perché addirittura chi c'ha i soldi non si può comprare un'azienda per farci un po' quello che cacchio gli pare, ecco, mi aspetto che il goti viva lo stesso trauma. Cioè che un giorno ci sveglieremo e ci sarà l'annuncio. God of War Ragnarok Game of the Year 2022. Così, debotto. Ed è così che mentre vi dimostro il mio disprezzo, ragazzi, mi hanno anche appena consegnato il mio bellissimo hard disk portatile da un terabyte di Sundisk, ragazzi. È veramente bellissimo da vedere e per lo studio mi sarà anche utilissimo. E di che cosa sto parlando? Abbiamo preso uno studio. Se vi siete persi i video, andateveli a recuperare, perché il vostro supporto è importantissimo e basta anche una visualizzazione, un like, un commento, ragazzi. Quindi vi lascio qui sopra, da qualche parte, comparirà la playlist. Andatela a recuperare oppure la troverete qua in fondo al video. Quindi mi spiegate come si fa a mettere in competizione dei giochi dove una reale competizione non c'è e soprattutto come si fa a giudicarli oggettivamente, sti giochi. Questi giudici, cosa si mettono? Li dicono, oh Gianni, prendiamo in esame il giorno 7 di Elder Ring. Era una merda Elder Ring al giorno 7, ragazzi. Si piantava ogni 30 secondi. C'aveva lo stuttering sul computer. Anche su console aveva dei problemi e grazie al cielo l'hanno risolto dopo. Quindi cosa mi dici? Lo prendiamo dopo la prima patch? Che senso ha? Perché? Perché God of War non ha ancora ricevuto quella patch. Che cavolo ne sappiamo che il giorno 15 di dicembre 2022 non esca una patch di God of War che ne migliora le prestazioni. E allora, quando prendiamo in esame God of War? All'uscita o al giorno di quella patch? Esattamente come è con Plug Tales. Lo sapete che è uscita una patch mastodontica che ha migliorato le prestazioni su console del 35%. Vi rendete conto di che cazzo vuol dire migliorare le prestazioni di un gioco del 35%? Vuol dire che prima tu ti stavi grattando il cu... Ah, che bella la post-produzione, ragazzi. Io posso dire tutte le parolacce che voglio poi basta che tolgo il volume dopo e non si sentono. Eppure so che dentro di voi le avete capite. Ed è questo il messaggio che deve arrivare. Che c'è qualcosa che non va. E a me, purtroppo, mi cava fuori dall'anima tutto il male che ho dentro. Perché? Perché per valutare un gioco oggi io dovrei parlare di un gioco che quantomeno è uscito l'anno scorso. Non posso valutare un gioco che è uscito da 5 minuti e non posso nemmeno confrontarlo con un gioco che ne è uscito da 10 ma ha già avuto 74 patch. Ci deve essere un giorno 0 di valutazione. Quindi, God of War lo valutiamo dal giorno 3, dall'uscita. Elden Ring, idem. Non posso valutare Elden Ring oggi e God of War di oggi. A meno che io non sono uno di quei fanatici fan della critica videoludica d'oggi giorno che guardano soltanto e... Allora, in quel caso, posso fare un po' il cazzo che voglio. Sicuramente il Game of the Years è un evento mastodontico, bello, è un'ovazione al mondo dei videogiochi, un'elevazione del mondo dei videogiochi, a qualcosa di veramente tangibile e reale con una premiazione, una cerimonia e tutto quello che ne consegue è qualcosa che riempe. Però cavolo, che non sia mai stato pensato questo problema, che non sia mai stato messo in luce questo problema, tanto che ci frega parlare del gioco dell'anno prima non è che cambierebbe così tanto, semplicemente l'edizione Game of the Year uscirebbe ad un anno di distanza dall'uscita del gioco e anzi, riporterebbe il gioco in auge dopo più tempo del dovuto, regalandogli più longevità e più fama attraverso uno spettacolo e verso i fan. potrebbe essere un'elevazione molto più alta che una cosa così spicciola, perché ora, mettiamo caso ragazzi, non succede, perché se succedesse sarebbe veramente una cosa troppo esagerata, ma God of War vincesse veramente il Goti e ci potrebbe anche stare per certi versi, passatemi il termine. cavolo, cosa esce domani la versione Game of the Year? È appena uscito il gioco, è appena uscito il gioco, cosa fai? Uscire attaccata la versione Game of the Year, Goti, subito, tum 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 tum, ci spariamo tutte le cartucce immediatamente, ma non mi ci quadra, non ci sta dentro una cosa simile. Io lo so che ci sono delle date precise in cui i giochi devono essere già fuori, altrimenti non possono rientrare nel Goti. Lo so, e però no, c'è qualcosa che non va in tutto questo, la data per rientrare nel Goti non può essere il 9 di novembre. Cioè, scientemente, tu metteresti in competizione tu, 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 in competizione un gioco che ha un anno di vita quasi e un gioco che ha 5 minuti. No. Perché lo sappiamo tutti che arrivano le patch, arrivano le modifiche, arrivano le correzioni, ci sono i bug, c'è tutta sta roba qua. Ma non mi salterebbe nemmeno, per sbaglio, in testa. Invece, viviamo in una realtà dove tutto questo viene ignorato, chi se ne frega, ma tanto cosa vuoi che succeda, perché questa qua è la frase più diffusa della nostra era, e in più abbiamo una critica videoludica che purtroppo vede ma non vede, o vede quando vuole, non lo so come definirla sta cosa, ragazzi, ma è terrificante per quello che mi riguarda. Io sto veramente pensando che ci sia qualcosa di sbagliato in tutto questo e sto veramente pensando di togliere, eliminare i voti dalle recensioni, perché tanto non ha neanche senso darli, perché? Perché tanto ci sarà sempre Pinko Pallino che dirà ah ah 10 e quell'altro che dirà ah cacca pupù, fine. E nello stesso modo io ho paura che il goti assuma un po' questa formula, una formula superficiale, una formula che addirittura potrebbe essere definita superflua. Io non vedo l'ora di sapere quale sarà il goti del 2022, proprio per darmi una risposta a questa domanda. Ci troviamo davanti ad una situazione che può essere definita realistica oppure viviamo sempre in questo idilio di luccichie e brillantezza che ci mettono quest'alone davanti agli occhi che non ci permette di vedere oltre. Che dire, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, ragazzi. Questa è una mia mera opinione. Ho buttato un po' fuori quello che penso e quello che ho pensato in questi giorni quando ho letto l'annuncio, quando ho visto determinate recensioni, quando ho sentito nuovamente determinate cose che ovviamente sono tutte legate ad un nome e questo nome è che censurerò perché così non facciamo figli e figliastri, non puntiamo il dito contro nessuno, ma è incredibile che quando si parla di come è successo con e come abbiamo visto con tutti quanti si mettono a dare dei voti esagerati senza senso a cose che in verità andrebbero un po' ridimensionate. Perché siamo onesti. Siamo tutti bravi ad andare a pescare il pesce da 50 kg. Il problema è portarlo a casa.